effetto max effetto max barbieri dal millen... dal davanti dal 2005 barbieri dal 2005, effetto max lo troviamo a cape monte e rimbetto bosch tilde tilde ehi tilde vieni ma facciagli nooo ciao tilde ciao come stai? pierre marchiè io sono pierre marchiè vieni qua ecco no io sto lavorando veramente ma stai fumando vero? no lo so però ho fatto 3 secondi per fumarmi non ti conoscerò mai perché mi guardi solo pensi non so che tilde ma che storia? nooo ma Massimo abbiamo fatto il sangue Massimo effetto max mahllo faccio il' app stabile dal 1'9 dal 1'9 dal 2'5 ah 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 阿 tinte serau e questo è l'altra guarda, c'è la mia mamma bene il po', guarda guarda il caffè, c'è la crema, c'è la fatica, che sfondo non mi farò in nato, ma c'è la crema c'è la vuoi fare, e che non ci vanno a lontano a lontano, a lontano guarda il piazza che fanno a ripigliare lontano se c'è il piazza, dove poter avere sono qua, vedi un caffè, capito? dai bravo, dai fuori che hai ripigliato dai c'è 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 hai guardato il caffè? è buono guarda, vedete, non ci vanno vuoi ma non c'è la mia mamma la 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 Ohore, come andiamo? Sì, come volete? No, grazie.